Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa diocesana di Pescara, Penne. In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 946 casi positivi al Covid-19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Rispetto a due giorni fa si registra un aumento di 133 nuovi casi, 280 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 33 in provincia di L'Aquila, 48 in provincia di Chieti, 144 in provincia di Pescara, dove lo ricordiamo fanno riferimento anche pazienti provenienti da altre province, e 55 in provincia di Teramo. 64 pazienti sono invece in terapia intensiva, 10 in provincia di L'Aquila, 12 in provincia di Chieti, 32 in provincia di Pescara e 10 in provincia di Teramo, mentre gli altri 516 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, 16 in provincia di L'Aquila, 89 in provincia di Chieti, 232 in provincia di Pescara e 179 nel Teramano. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i 63 pazienti purtroppo deceduti. Tra gli ultimi deceduti ci sono un 70enne e un 62enne di Penne, una 92enne di Rocca Scalegna, una 49enne e una 72enne di Pescara, una 91enne di Città Sant'Angelo. Spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di Sanità attribuire le morti al coronavirus, in quanto si tratta di persone già affette da patologie pregresse. 16 pazienti sono invece clinicamente guariti, cioè da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19, sono diventati asintomatici. 7, infine, sono guariti e quindi hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Intanto ricordiamo che anche l'area vestina e quindi in particolare il comune di Penne, insieme ad altri comuni, è stata inserita nella zona rossa fino al prossimo 3 aprile. Consentirà di eseguire 8 test in 90 minuti, quindi in un'ora e mezza, il test rapido molecolare che fin da ieri è in uso al Centro di Riferimento di Diagnostica Virologica di Pescara. L'ho anticipato il direttore del Dipartimento, il virologo Paolo Fazzi, peraltro componente del Comitato Tecnico Scientifico, individuato dalla Giunta Regionale per l'Emergenza Covid-19, alla redazione di SOS Coronavirus. Il test consentirà, accanto all'uso di altri dispositivi diagnostici, ha detto Fazzi alla redazione di questo SOS Coronavirus istituito dalla Regione Abruzzo, di ampliare notevolmente sia la platea dei soggetti da sottoporre a tampone, sia la tempestiva capacità di risposta dei risultati che oggi, con la metodica attualmente in uso, non è inferiore alle 5 ore. Il direttore del Centro Virologico, specificamente incaricato dalla Giunta Regionale, ha spiegato che sono in corso verifiche per acquisire piattaforme diverse che hanno una produttività diversa. Secondo fonti vicine alla Farnesina, decollerà stamattina da Mosca l'aereo con il carico di mascherine acquistate dalla Protezione Civile Abruzzese. Lo si è preso a seguito della segnalazione del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Intanto il Laboratorio di Genetica Molecolare del Centro Studi e Tecnologie Avanzate dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, diretto dal dottor Liborio Stuppia, da oggi è pronto ad eseguire il test di diagnosi del Covid-19. E in relazione all'attività della Giunta per aumentare la capacità diagnostica e contenere la diffusione del Covid-19 e quindi l'escalation di casi positivi, L'assessore alla Salute della Regione Abruzzo, Nicoletta Veri, intervistata dalla redazione di SOS Coronavirus, ha lanciato l'allarme sui test sierologici, di cui ha detto «Sento parlare oggi che non sono validati dal Ministero e i cui risultati non hanno alcun valore scientifico, anzi in alcuni casi potrebbero procurare ulteriori danni». L'Averia invece ha spiegato che l'unico test è quello molecolare, ovvero fatto sui tamponi, e in questa direzione abbiamo appreso dal Ministero che presto saranno validati nuovi kit diagnostici. L'assessore ha quindi aggiunto che si stanno acquistando nuovi macchinari che aumenteranno senz'altro la capacità dei laboratori autorizzati, ma si tratta in ogni caso di apparecchiature che utilizzeranno sempre i tamponi e i procedimenti molecolari. Non vogliamo pazienti covid nel nostro ospedale. Da ieri pomeriggio è in corso a Sulmona un braccio di ferro tra il sindaco Anna Maria Casini e i vertici della ASL della Regione Abruzzo. Dopo la decisione di inviare due pazienti con coronavirus nell'ospedale di Sulmona, che non sarebbe attrezzato per accoglierli, il sindaco del capoluogo Peligno ha puntato i piedi. In questo momento, ha detto, il nostro ospedale non è pronto per accogliere pazienti affetti da coronavirus. E intanto nella nostra regione si sono registrati nella giornata di ieri, a causa del maltempo, soprattutto sulla provincia di Pescara, di stacchi di energia, anche se la situazione appare al momento sotto controllo. Comunque la pioggia è stata abbondante. Ieri poi, in un supermercato nel centro di Montesilvano, l'altro ieri sera, in un supermercato nel centro di Montesilvano, in piazza Indro Montanelli, c'è stato un incendio dovuto pari ad un malfunzionamento, ad un guasto. Sono in corso le procedure per accertare le cause di questo incendio, le cui conseguenze sono state però l'annerimento dei locali e, insomma, risulterebbero al momento, secondo le informazioni che si hanno al momento, danni ingenti. Si sperano una pronta riapertura. Ricordiamo gli appuntamenti religiosi della nostra emittente. Ogni giorno alle 7 del mattino c'è la Santa Messa con Papa Francesco alle 12.03, quella invece presieduta dal nostro direttore Don Remo Chioditti, alle 19 la liturgia eucaristica in diretta dal Santuario del Divino Amore in Roma. Alle 21 poi il Santo Rosario. Nella giornata di oggi, alle 18, il Papa sarà davanti al Sagrato in Piazza San Pietro per l'adorazione eucaristica, per l'adorazione, appunto, in occasione di questa emergenza e quindi, appunto, per pregare in occasione di questa emergenza. Noi trasmetteremo l'evento in diretta. Ed è, siamo così giunti alle previsioni del tempo. Prima però vi diamo i numeri dei centri operativi comunali di Pescara, lo 085-4283-400, lo ripetiamo, 085-4283-400 e Montesilvano 085-4481-326-085-4481-326. Numeri da usare se siete malati o anziani e vivete da soli, avete bisogno della spesa o dei farmaci. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo coperto fino a tutto il pomeriggio e pioggia in serata con temperature da 10 a 13 gradi e venti da deboli e moderati. Nelle zone interne cielo coperto fino alle ore centrali e pioggia nel resto della giornata con temperature da 8 a 12 gradi e venti da deboli e moderati. Il mare è previsto mosso. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne, a voi tutti grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.